Sanità, costo della vita, inquinamento e trasporti. Sono tanti i temi cui quasi 900 lucchesi, lettori di Lucca in diretta, hanno risposto al sondaggio del noto Istituto Nazionale di Ricerche Demopolis. Al centro della rilevazione è il tema della sanità. Poco più di 1 su 2, il 52% promuove i servizi sanitari in provincia di Lucca, con un voto pari o superiore al 6. Il 48% esprime invece una valutazione negativa. È solo uno dei dati che emerge dal sondaggio online condotto dall'Istituto Demopolis. Sul tema sanità, per un intervistato su tre, la qualità dei servizi per la salute è rimasta più o meno invariata rispetto al passato, il 60% dei cittadini. Rileva invece un peggioramento complessivo rispetto a tre anni fa. Appena il 7% avverte un miglioramento. Altro tema caldo è l'inflazione. Per quasi 9 cittadini su 10, l'aumento del costo della vita degli ultimi due anni pesa oggi in modo significativo sulla situazione economica familiare, in particolare la spesa, le bollette di gas ed energia elettrica e i carburanti. Per gli altri risultati si può consultare l'articolo in home page su Look in Diretta.